Cari missionari, in occasione di San Vigilio ho ancora una volta la possibilità di dirvi il mio grazie perché come ho scritto nella lettera per la festa del patrono alla comunità trentina i tratti di Dio della gratuità passano agli uomini e sicuramente sono passati in Vigilio ma mi piace pensare che voi siete altrettanti Vigilio, che siete la storia della gratuità trentina diffusa nel mondo ed è molto bello come ho scritto nella lettera alla comunità pensare che quello che differenzia il nostro amore da quello di Dio è proprio questo, che quello di Dio è debordante, è pura gratuità, è eccedenza continua, non è paramotrato su niente è oltre addirittura ama il prossimo come te stesso, è proprio la gratuità in libera e questa gratuità in libera a dosi diverse Dio l'ha passata agli uomini e tra i tanti uomini che la hanno e la diffondono ci siete voi cari missionari e approfitto di questa occasione per ringraziare Nicoletta Gatti per la sua bella testimonianza che sta dando e in lei vedo però anche tutti gli altri missionari, tutti voi sparsi in diversi continenti del mondo, grazie mille. Carissime sorelle e carissimi fratelli, mi chiamo Nicoletta e sono una di voi, una missionaria inviata dalla nostra chiesa trentina in Ghana. In quest'anno sinodale e per la festa del nostro patrono San Vigilio voglio riflettere con voi su cosa vuol dire essere chiesa. Guardando a Vigilio mi colpiscono alcune caratteristiche sottolineate anche dalla liturgia della parola. Vigilio è celebrato soprattutto come pastore e martire, come qualcuno che ha amato il suo popolo fino a dare la vita per coloro che Dio gli ha affidato. Questa disponibilità totale non è scaturita però da doti personali ma dall'obbedienza ad una chiamata che lo ha condotto da Roma a Trento e dalla comunione vissuta con altre persone. Vigilio non si è fatto padrone del grege ma ha generato una catena di comunione perché la comunità scaturita dal suo annuncio, dal suo martirio fosse un prolungamento dell'umanità di Gesù, una tenda accogliente dove la parola continuasse a farsi carne nello scorrere dei secoli. Per questo la comunità, la nostra comunità generata dall'incontro con Cristo è una comunità scatologica, come ci ricorda la seconda lettura, posta nell'orizzonte del regno. Una comunità che non vive in funzione di se stessa, della propria organizzazione, della propria sopravvivenza ma vive per il servizio del regno in costante attesa della sua venuta. La chiesa generata da Vigilio, Sisinio, Martirio, Alessandro e da altri infiniti santi sconosciuti è ancora oggi per noi luogo di educazione alla figliolanza, nell'esperienza di una paternità reciproca e per questo è un tirocino alla missione. Questo comporta da una parte la purificazione da ogni forma di arrivismo, di ricerca di potere, da ogni atteggiamento che non costruisce comunione e dialogo e dall'altra richiede la consapevolezza del valore di ogni altro, di ogni sorella e di ogni fratello, custodito dal padre perché figlio, fratello e sorella nel quale riconoscere il volto di Cristo, conservo nella costruzione dello stesso regno. Solo così può essere una chiesa riconciliata e strumento di riconciliazione, una chiesa ponte tra culture e mondi diversi e una chiesa serva dell'incontro di chiunque con Cristo. Il mio augurio dunque a voi che condivite con me il dono della missione universale e alla nostra chiesa madre missionaria in Trento è quello di riscoprire la bellezza e l'entusiasmo di essere chiesa, di essere il prolungamento dell'umanità di colui che non è venuto per essere servito ma per servire e dare la vita per amore. Auguro a tutti di non rimanere aggrappati ai cadaveri di un passato letto attraverso le lenti della nostalgia, un passato di rilevanza sociale, un passato di appartenenza di massa ma di riconoscere anche con fatica il risorto che ci sta d'innanzi, che ci chiama per nome e ci indica cammini nuovi, un risorto che ci invia anche oggi a proclamare l'unica parola che può cambiare il mondo, il Signore è di vero risorto, egli cammina con noi perché l'ultima parola di Dio non è la morte ma è la vita. Buona festa di San Vigilio a tutti. Credo che intanto ringraziando Nicoletta Gatti per gli incoraggiamenti che lei condivide, è vero, lei li condivide con i suoi confratelli e le sue consorelle, colleghi, missionari e missionari sparsi per il mondo, però li condivide anche con noi che stiamo da questa parte del mondo, con chi sta a Trento e di questi incoraggiamenti ringraziamo Nicoletta ma ringraziamo anche tutte voi e tutti voi missionari e missionari che continuate a stimolarci su, anche perché noi riusciamo in qualche maniera a capire un po' di più che cosa significa essere Chiesa Universale, che va al di là del Bondone, al di là dell'Adige, che va al di là della nostra terra, splendida ma che è un minuscolo pezzettino del mondo. Credo che alla fine tutto questo in che cosa si traduce? Si traduce nel vivere il Vangelo in prima persona, è di questo che a tutte le latitudini del pianeta abbiamo bisogno, è forse questa o senza forse è l'unica ricchezza che possiamo pensare di avere, che non è una ricchezza, è una ricchezza per niente piccola, noi spesso maledettamente la sottovalutiamo, è la ricchezza che il Signore ci lascia e anche la missione che il Signore ci lascia in qualsiasi contesto ciascuna e ciascuno di noi viva, di questo noi vogliamo ringraziare voi e con noi e con tutti affidare questo rinnovato coraggio, questo rinnovato entusiasmo alla preghiera di San Vigilio.